I fasti di Elisabetta Farnese, ritratto di una regina, è una mostra organizzata in Musei Civici di Palazzo Farnese a Piacenza, dove ci troviamo ora, che cerca di ripercorrere la vita di Elisabetta Farnese, che ha davvero un'aura fiabesca, perché è la storia di questa giovane donna nata in un piccolo ducato italiano, il ducato di Parma e Piacenza, che riesce a diventare niente meno che regina di Spagna. Per capire questa traiettoria gloriosa dobbiamo inquadrare, come dire, la psiche del casato dei Farnese, una stirpe che aveva un problema, soffriva un po' di quella che oggi chiameremmo sindrome dell'impostore, perché rispetto ad altre grandi casate principesche italiane, come ad esempio i Savoia, i Gonzaga, gli Este, che derivavano dalla grande nobiltà feudale del Medioevo, i Farnese arrivavano in realtà dalla piccola nobiltà rurale di un'area abbastanza marginale della penisola, la Tuscia, l'area più interna del Lazio, una zona molto ricca di boschi, di farnie, le tipiche querce europee. Tra l'altro pare che proprio dalle farnie derivi il cognome farnese. A cambiare il destino di questa famiglia fu un uomo, il cardinale Alessandro Farnese, diventato Papa Paolo III, grazie al quale i Farnese divennero una vera e propria dinastia. E come riuscì in questa impresa? Ci riuscì ottenendo nel 1534 per Pierluigi, il suo figlio primo genito, che un Papa avesse figli all'epoca non scioccava nessuno, il Ducato di Parma e Piacenza, ovvero quello in cui sarebbe poi nata nel 1692 la nostra Elisabetta Farnese e senza il quale lei stessa non sarebbe mai diventata regina di Spagna. Come mai? Cosa aveva di così speciale questo Ducato? Aveva effettivamente dimensioni ridotte, però era molto strategico dal punto di vista militare e commerciale perché difendeva il fianco di Milano, si incuneava tra i domini dei Savoia, di Mantova, di Modena, di Firenze, quindi era un territorio molto interessante, molto ambito. Ed è il motivo per il quale, pur non essendo figlia di un grande sovrano europeo, Elisabetta Farnese fu fin da subito considerata un buon partito. Eppure a 22 anni Elisabetta Farnese non si era ancora sposata e 22 anni erano considerati un'età avanzata per una principessa dell'epoca. Pensiamo a tutte le spose bambine aristocratiche di allora. E come mai Elisabetta Farnese non convolava a nozze? Per via di una saggia scelta dei suoi genitori, molto scaltri, il Duca Francesco e la Contessa Dorotea Sofia di Neuburg, che temporeggiavano sulla scelta del marito per la figlia. Avevano in realtà avviato tutta una serie di trattative matrimoniali con i Savoia, i signori di Modena mirandola, però nessuna di queste trattative, di queste strategie le aveva lasciati soddisfatti. Come se dentro di loro sapessero che potevano mirare ancora più in alto, potevano ancora essere più ambiziosi. E in effetti pare proprio che tra l'ultimo decennio del 600 e il primo del 700 Elisabetta Farnese sia stata cresciuta per diventare una perfetta sovrana. Aveva studiato il latino, conosceva diverse lingue straniere e poi era stata educata a varie forme d'arte, teatro, musica, imparò a suonare il cembalo, la danza, studiata con un maestro di ballo francese, e poi la pittura, che Elisabetta apprese dal fiammingo Ferramonti e dal piacentino Avanzini. Tra l'altro, insieme al maestro Ferramonti, Elisabetta Farnese dipinse anche un grande stendardo processionale con La Vergine, Il Bambino e San Felice da Cantalice, che si trova proprio qui a Piacenza, nel Duomo della città. E qui in mostra sono esposte due opere giovanili di Elisabetta Farnese, Il Matrimonio Mistico di Santa Caterina, che lei ha copiato da un'opera del Correggio, e Lo Svenimento di Esther, ripreso invece da un dipinto del francese Quapelle. Ora, il fatto che Elisabetta Farnese sapesse dipingere non deve essere interpretato come un semplice hobby aristocratico, perché per una potenziale sovrana era veramente fondamentale avere dimestichezza con la pittura, con l'arte, perché proprio attraverso il mecenatismo una regina poteva esercitare un ruolo politico attivo, ad esempio esportando parte della cultura del proprio paese d'origine in quello in cui approdava e ritagliandosi così dei margini di manovra, degli spazi di autonomia. Potremmo quasi dire che il legame tra arte e politica è proprio un tratto caratteristico del loro casatto, oggi diremmo fa parte della loro brand identity in qualche modo, perché usarono l'arte già ai tempi del loro arrivo a Roma, ricordiamo che arrivavano dalla provincia, come forma di affermazione in città e di legittimazione del proprio potere. Pensate solo a cosa dovesse significare farsi ritrarre da un grande artista come Tiziano, come fece Papa Paolo III, oppure abitare nel Palazzo Farnese, che oggi è sede dell'ambasciata di Francia a Roma, progettato tra gli altri da Michelangelo o in quello ancora più sfarzoso di Caprarola. Era proprio una forma di propaganda. E una logica simile fu adottata dai farnese anche nel loro ducato di Parma e Piacenza. Il nonno di Elisabetta Farnese, Ranuccio II, fece rinnovare il Palazzo della Pilotta a Parma, qui a Piacenza il Palazzo Farnese che fu decorato dal Veneto Sebastiano Ricci con una serie di tele che celebravano i grandi protagonisti della famiglia. Quindi non sorprende che Elisabetta Farnese, cresciuta nel Palazzo Ducale di Parma, circondata da opere di Correggio, Carracci, Parmigianino, vedendo quanto avessero costruito i suoi antenati, sia stata spinta a emularli. E quindi anche i cosiddetti fasti di Elisabetta Farnese, la serie di tele commissionate per raccontare il suo matrimonio reale, devono essere inserite in questa strategia di affermazione familiare. Sì, perché alla fine il sogno dei genitori di Elisabetta, convinti che avrebbero trovato un super marito per la loro figlia, beh, si avverò. La loro strategia, il loro tentativo di forgiare una sovrana perfetta, diede i suoi frutti, perché nell'estate del 1714 arrivò nel Ducato di Parma e Piacenza un'offerta di matrimonio prestigiosissima. L'offerta di matrimonio da parte di Filippo V, re di Spagna, nipote del potentissimo Luigi XIV di Francia, il re sole. E da quel momento, per la giovane Elisabetta Farnese, inizia un'altra storia.